Avere una batteria portatile che ti ricarica il cellulare di ben il 15% è abbastanza deprimente Che fare? Potenziamo la nostra batteria portatile aggiungendogli un'altra bella batteria Avrà una bella panzetta ma sicuramente ci caricherà di quasi il 30% Che fa lo stesso tristezza ma almeno avremo un'agonia più lunga Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi A chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale A presto! Grazie per la visione! Ciao! 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 Ciao!